Qui c'era il PC, qui sono nate le cooperative. Oggi non ci sono più i figli degli operai, ci sono i figli dei massoni che hanno preso il loro posto. Ieri sera a Reggio Emilia Beppe Grillo ha picchiato duro, un'ora di invettive violentissime, Renzi e Napolitano i bersagli preferiti, ma ce n'è stato anche per il sindaco Pizzarotti. Sul Premier dice che la politica deve stare fuori dall'expo ma è totalmente dentro. Quando andavano a spartirsi gli appalti i nostri consiglieri li hanno chiusi fuori. Sul capo dello Stato vinciamo le europee e andremo a dare Giorgio che dovrà lasciare il Quirinale andare a Cesano Boscone con Berlusconi. Poi Grillo se ne è presa con il vice premier Graziano Del Rio. Andavamo in municipio a cercarlo e lui scappava dalle porte secondarie, ora è andato a fare danni a livello nazionale. E poi un'ennesima punzecchiatura a Pizzarotti che aveva criticato le candidature alle europee. Il Movimento 5 Stelle ha detto Grillo a 73 candidati, ci hanno accusati che sono sconosciuti, ma è il nostro orgoglio che siano sconosciuti. Sono sconosciuti soprattutto alle procure e se qualcuno sbaglia se ne va. Pizzarotti, come aveva annunciato, non ha partecipato all'iniziativa di Reggio Emilia. Oggi invece il consigliere regionale dell'Emilia Romagna Andrea De Franceschi è stato sospeso dal Movimento 5 Stelle e diffidato a utilizzarne il simbolo. Dopo che la Corte dei Conti ha chiesto a tutti i partiti di restituire i fondi delle spese del 2013. L'annuncio è comparso stamane sul blog di Beppe Grillo. Sempre a proposito di politica, duro confronto nella scorsa puntata di Parma Europa in un dibattito dedicato soprattutto a immigrazione e integrazione, con la presenza in studio tra gli altri ospiti dell'ex ministro Cecil Chiang, puntata in replica questa sera alle ore 21.